Il mio canale oggi ragazzi come potete vedere siamo ritornati qui su fortnite perché perché su fortnite come avete letto dal titolo ci sono le sfide della settimana 3 eccole qui tutte belle pimpanti ancora non le ho lette tutte tranne i primi 3 e non le ho capite cioè l'ultima non l'ho capito ora li guardiamo insieme Allora allora prima fatemi controllare se si vede tutto ovviamente lasciate like commentino tattico e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto oggi forse arriveranno qualche miei amici qui in live quindi perfetto Perfetto così si può iniziare subito ragazzi con la prima fase la prima sfida la prima fase visita la landa letali e borg bislac in una partita singola easy easy tranquillissima Sì dai Dario giochiamo che ti stavo cioè già lo sapevo quindi allora distruggi cactus nel deserto 30 oppure questa di qui è easy si ma allora ti invito piazza diversi oggetti da slot trappole in una partita singola non l'ho capito ora mi dovete dare voi suggerimenti oppure c'è Dario quindi va bene Cerca nel punto indicato dalla lente di ingrandimento sulla schermata di caricamento nella mappa del tesoro pure questa di qui è easy si ma già più o meno lo so dov'è Cerca dei forzieri a scalini scatenati o landa letali va bene pulita easy tranquilla Questa di qui non si può vedere cioè non la riesco a vedere in no non la riesco a vedere e dopo questa di qui sicuramente sarà di fare del danno va bene va bene ci sta Invito a Dario eccolo qui accettiamo perfetto così ci completiamo le sfide belle insieme ora Dario non mi dovrebbe sentire mi senti Dario no perfetto ragazzi un secondo solo Un secondo solo che metto una cosa ok scusate ragazzi però non ce l'ha messo un secondo tanto l'impostazione quella di lì che metto ogni volta l'ho tolta praticamente cioè ora in questa live l'ho tolta E quindi va bene va bene allora vai così impostazioni da qua perfetto perfetto Ok ora da qui ci dovrebbe essere però un secondo perché devo modificare anche qui impostazioni impostazioni attiva scatto dov'è 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 Anonimo Ma dove va per niente che si sente perché io ogni volta non lo chiudo questo di qui audio di lì chat vocale ecco applichi applica Bella Dario ci sei mi senti mi dovrebbe sentire Bella per lui Perfetto ciao Dario allora Comunque la sfida quella la sfida quella che ha detto il piazzare piazza diversi oggetti Sono trappole normali torrette Ah va bene le trappole in sostanza anche le torrette Va bene allora jump Ah sì sì allora è una partita singola sì Io andrei in discoteca sinceramente perché c'è respawn e possiamo fare un po' di tutto Discoteca a collo che c'è pure la normalità la fuga Eh fai una cosa Attiva in quella dei Distruggi cactus gruppo assistito così li facciamo ne facciamo di più Ok va bene Tu li fai per me io per te Tanto si può fare ogni Appriente Fai attivando gruppo assistito consentirei agli altri membri del tuo gruppo Ok potrei ricevere Sassi io ne faccio 15 e tu 15 Sì sì ok però dico Appena finisce quale la completiamo Poi lo possiamo però non rimetterli su un'altra sfida Oppure tipo Ah ok Ah sì sì si può fare Fatto gruppo assistito Metti domina Io direi di fare Eh no lo devi mettere tu fra Lo devi mettere tu perché mi chiede di dire Sì no tipo all'hande Apriamo le casse e poi andiamo a borgo Poi cactus poi magari li facciamo dopo Le trappole si fanno da sole Colpi la testa da solo Nelle kill da gommi 3 intervistole Ah e kill quello perché io non lo riesco a vedere che c'è la webcam Un'eliminazione c'è scritto Eliminazione va bene Poi quella cerca nel punto Vabbè quella di la serie è easy Cioè basta che si vede un video Qual è invece la penultima E infliggi danni agli avversari alla testa Così eh Sì devi fare Non lo vedo io Quindi sta andando a Che sembra difficile perché Mi sa headshot Però a me Rescono come niente Ma in realtà se fai due headshot Con il bar Oppure fai un headshot con il bar Ma anche con lo scale Eh oppure con lo scale Infatti Una pistolina pure Cioè 36 a botta Vedi che non sono poi Ah bene Io il pirato quello incredibile Ma che punto sai Del passo della battaglia Più 30 Ma c'è scritto 31 31 E invece il livello No sto giocando un po' con sta season 25 E io come è identico Io gioco pochissimo Stasismo E qui mi sono bloccato 30 rainbow C'è mozi Esatto Mozi Ma non porta Sto partito Si vede che ha preso il cane Eeeh Va bene Ha preso un cane Ha preso un cane Hai capito Allora Vediamo qua E qui sta a pensare Ok Accidenti Bella lì Ok adesso sì Che si può saltare Adesso si Devo aspettare il crash Allora ragazzi Vi lasciate like Lo sapete E poi sono curiosi Vedere come tiene le armi Con sto uncino Ah infatti L'ho messo sta skin solo per questo Lo guarda la gamba Sì sì Ma io È tutto male combinato Sto qua Brava di che io pure l'ho Eeeh Vai salva Perfetto raga Ok pronti Aggressivissimi Puoi startare la partita Non mi fa mettere pronto Ti faccio host Così me lo fa mettere easy Va bene Ok Allora Ci sei Dominata discoteca Riempi Accettiamo Pronto No perché riepito Come non si riempirà C'è scritto in giù Oh ok Allora Ti fa mettere pronto Non voglio mettere l'artiglio vai L'artiglio L'artiglio Ah come il piccone Eh no 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 L'artiglio Sì sì il piccone artiglio Del drago Ah ah Guarda è schifo Come fa stemote Aspetta Con questo personaggio poi C'era che vai cercando Scusa Con quella gamba Eh infatti Aspetta voglio vedere una cosa No no partite Non le trovo a sto giro Ok non trovo partite Va bene Eh se tipo crasha di nuovo Andiamo in In coppia Come fa a saltare E come fa a saltare Non va Non va Non va Non va Dai però Almeno in una discoteca Ti facevano tutte le robe Isi sia le trappole Che Ah ok Forse ci sta facendo entrare Ma non è vero Che non ci sta facendo entrare Ma no perché non c'è l'altra Questa è l'altra mano È stato bellissimo Aspetta dov'è Guarda qua Guarda qua Ah la facciamo a nulla No ho fatto a nulla Ma non si è fatto Voglio giocare Sì fatti Vabbè cambiamo la reta Eh no no Non mi fa nullare Dobbiamo aspettare di crasha Sì infatti Bene Ok Ma come fa l'applauso Scusa Non è per cosa È applauso o dai golf? Allora voglio vedere Vediamo l'altra L'altra applauso Dov'è? C'è l'altra applauso No non c'è l'altra applauso Così qua è l'unico Ma non va Non va Aspetta un attimo Invitami squadra Sì Ok allora Togliamo qua Mettiamo coppia Riempi Accettiamo Eh Manda qui L'ultimo Dov'è? Dov'è? Raid Invitare il gruppo Ora dovrebbe andare tutto Ok Mettiamo coppia Sto giro Sono abbastanza sicuro Che fosse la skin Ma dove c'è skin? Eh Ma io voglio mettere Il cavaliere oscuro Con le ali Ci devastiamo un po' tutti Puoi mettere pronto Che almeno vediamo se Aspetta un attimo Sto scendo la skin Non ho scelto Ma per ora metti pronto Cioè Dico ok Sto skin non si avrete più nessuno Ma in realtà non so il motivo Perché è fortissima E anche tu la così però Cioè Ok Tra l'altro mi ha inviato un messaggio Invitami Prima di startare Boom Start Cosa? Cosa? Allora Capito Lucio ma che cosa? Cioè Che mi ha inviato il messaggio Invitami Prima di startare Boom Start No è crashato Cioè è crashato Non ci sentiamo Va bene Allora Qui si è rimpianto Perfetto Easy 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 Andiamo a completarci Immediatamente Sì ascolta Dobbiamo andare a land Pensavo è la prima A guardare nel deserto Nel deserto così ci completiamo subito Questo Ascolta la sound Ecco quella della falce Però non è la falce Meglio di tempo Ragazzi quando sei povera è la falcetta rocca Eh infatti Sono Dove sono la maggior parte degli cactus? Forse da qua? È un deserto Eh ti dico Ok Bella Sì sono dove Pingato solo Cioè sono un po' Ovunque Però la C'era un bel gruppetto Però sappi che ci scenderanno parecchia gente Parecchia gente No non ci sarà nessuno Aspe ma a borgo e lande sono tipo attaccati Sì sì Era easy Era easy Non so perché pensavo io bosco Nella mia testa e poi bosco Molto c'è più Bah arrivo per fi e tu no dove mi raccomando è il cactus non alberi ah molto divertente guarda perchè non apre un canale smith si pure domani ma dove sei andato? e te l'ho detto che sono arrivato basso ma molto basso si si un botto vabbè si completa easy questo completato ma tu li hai tutti accanto cioè capisci si è un casino di ma questo cactus che avevo qua stava volando ormai è una bella sai che questa le facciamo easy comunque d'altro hai assistito cioè io le sto facendo per te e tu per me mi sa che non si sommano c'è questa sensazione in che senso non si sommano? si che si sommano no 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 si sommano guarda io l'ho fatta no non l'ho fatta ancora no vabbè o mi assisti oppure no con le klinger se forse distruggono con più facilità no 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 non funzionano non pensate che non viene a non farle col piccone tanto sono pure full di materiali ma si non sto impazzendo con la scritta in alta sinistra se io pure ragazzo andando non capisco cosa è completata l'ultimo visto lui è perfetto fatto fuori io lo completava almeno bella ora io direi di andare qualcosa ai pirati usare il canone ci lanciano a lander dai ma io sono andato ah si si a collo a collo andiamo 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 dai che siamo qui per merda e per completare le sfide cioè no che mi interessa e noi lo facciamo tanto per intrattenere allora dico solo che ho visto una cosa che mi interessa moltissimo c'è pure la girosfera ora facciamo tipo la cosa ha fatto in giro ah vero vero ho trovato una torretta torretta ah perché dove non abbiamo fatto il gruppo assistito ah vero perché ora vabbè si infatti tante easy ok vai nella data ora però il problema è trovarne un altro allora ma tipo una notiamo un secondino ho trovato una cappa bianco che è abbastanza triste da vedere la cappa bianco si oppure la cappa bianco non è per niente vero di trigger faccio un c'è spuglio ma non credo cioè non è una trappola allora quindi qua ci sono le girosfere che dobbiamo fare cioè nel senso ti lanci tu col cannone ma ok ma ci sono un voto di girosfere quindi possiamo andare anche insieme no no vabbè è più figo no ma io lo voglio guidare la girosfera ah ok allora vai sei entrato ah ma è soltanto una tieni premuto no sono più di una vai tieni premuto RT su di me su di me ti devi appendere perché io non lo lascere mai devi tenere premuto ah ok ok non mollare bella bella tua pistola ma ma aspetta un attimo ok ti facilito il lavoro grazie ma sì e wait madonna aspetta un attimo poi facciamo così grazie ci riesci no perché sei staccato ferma ferma calmo ok ok ci siamo no no ma 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 no fra ti sei mosso sali alla scala sali alla scala con l'alta ah ma tu sei ancora attaccata a me sì che sono premia no no vai sali a questa qua sali a questa acqua sali a questa acqua oh ce la fai attacca si stanno papi ti facciamo prima vai vieni qua vieni qua attacchi a me ok dai ci siamo ma non penso che funzioni come no e invece sì vai ma in che senso abbiamo due dietro mi sa che abbiamo un problema Houston eeeh stanno fucciando in cattivaria e no mi sa che no vecchio roccia ma non ho fatto anche lei mi ha dato la sfida ma non possono farmi del danno eh ti devo venire aiutare vecchio si eh tu che fischi ok mi ha dato a 1 vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua ti prego ma sai che sei un pro ma ce n'è pure un altro adesso roconto ti conviene completaregli l'alleato completategli l'alleato ma non so dove è qua sotto è qua sotto vai vai entra entra fatti la sfida no ma non col pompa come con che cosa era con una mitraglietta no mi ha dato mi ha dato la kill a me cioè non so perché ti fai ammazzare così si 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 aspetta va bene avevo pure la torreta ma via avevi la torreta eh l'ho presa la trappola vabbè dai eh lo so ma non ce l'ha troppo confusione lì va bene vai bello bella la prima vabbè dai meglio di niente ma si infatti si tranquillo pulito allora sto morendo alla fame ragazzino Luciano sono abbastanza sicuro questa sfida si è buggata c'è scritto tipo ottieni una quale sfida quella praticamente che dice di infliggere spettare mi leggo sì ottieni un'eliminazione con una mitraglietta una pistola un fucile di precisione io li ho hitati con la mitraglietta malattata perciò secondo me c'è scritto ottieni un'eliminazione però basta che fai la hit e te really no ah è partito eh Dario si sento male un botto di vivo vecchio Lewis cerca delle munizioni ce l'andiamo cosa è la fase 2 di quale sfida quella di fare cioè di spaccare le robe cosa sì no è la fase 2 le munizioni eh ora ce ne andiamo invece cosa dovremmo fare cioè vuoi fare questa con gruppo assistito come vabbè sì alla fine le trappole si trovano più facilmente sì le scatole sono di meno vabbè ma non puoi fare tipo gruppo assistito se lo fai tipo su un'altra sfida quella dove c'era praticamente sia nulla perché non lo so come funziona un pezzo di sì hai detto una richiesta di nemicizia a random a random tipo troppo perché mi stai inviando vecchio mi mi to tipo un casino vabbè lasciamo stare metti pronto così ci vuoi se io andrei invece sinceramente a landa a prendere le casse e poi andare a borgo così facciamo due sfide in una e mettiamo metti gruppo assistito su cercaforzieri cerca la scala in olande così prendiamo le casse e poi e poi ce l'andiamo in olande ce l'andiamo a borgo a borgo facciamo le sfide la cosa di andare a borgo e di andare a l'orgo ok non partire a sola o se è il caso è tra però se non metti pronto lo vedo leggermente difficile come situation però quindi devo fare devo fare io headshot danni con la pistola col cecchino e le trappole ok in un secondo è partito ora te l'invio appena intanto lì il commento ok ok ma cosa no no mi ha scritto un ragazzo che conosco e non gli fa inviare la richiesta ma e vabbè ora glielo invio io è un nome un po' particolaris no no non glielo fa inviare non è che l'ho sbagliata no quindi vabbè vuoi dirci da dove nasce il tonic name assolutamente no a 50 miliardi mi piace lo dirò 5 miliardi no dai facciamo 50 like come 50 miliardi allora stavo vedendo poco fa è tipo la lotta da niente se mi fa fare c'è se nell'isola dispone non penso no non penso solitivamente vedi che tanto tempo fa c'era la sfida di rompere le macchine gli alberi nell'isola tipo di caricamento rotto una macchina e me l'ha contata quindi non si sa mai dove ci andiamo è a london a london hanno cambiato pure la forma del segnalismo lo avevano già cambiato però e ora l'hanno cambiato si vede è tipo una cosa un po' bella tra l'altro metti metti il punto dove esattamente dove c'è i metri no 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 metti il punto lì guarda la mappa si mixa nei colori no metti il punto dove l'ho messo io guarda mettilo di nuovo no ma io ero posso ma mannaggia per guardare là ah no qua c'è il guy e no capite cosa è il problema non c'è allora praticamente per io non si sovrapponevano così ora invece è più bello facci caso allora no ma io arrivo va luciano luciano ok è atterrato tutto l'autobus qui ah io una cassa ce la faccio no io no vabbè te la faccio fare a te nel dubbio allora penso che fucire alla caccia lo conti come cecchini insieme all'acog quindi ho due potenziali cecchini per fare i danni dai te la faccio fare una pure a stare ok e con le mitragliette ho fatto l'uccisione no e danni con mitragliette pistole cecchini che però i cecchini ti contai ma ma scusa quanta vita questo infinita va bene ma è impossibile uscire sì comunque pure a me ma mi sembra che tutto non male cioè me l'ho dato mi dava la sfida quella di lei può provare a farti fare qualche cassa dovrebbe di solito una non ci sarà però guarda che belle armi che ho vorrei provare a fare i dati ok sto dicendo non c'è per davvero sto dicendo non c'è per davvero guarda che bella animazione no è quello di lei che può scusare ma lascia stare eh non penso che andare in casa sia una buonità però guarda nei silos magari una lì eh appunto eh non penso sia una buonità secondo me lei sulla destra vai a vedere la vai a vedere nei silos prima no 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 bello 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 easy no è vero la famiglia guarda broder doc l'hai dietro doc no 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 sono pro sono pro sono pro è per è auto in leggeramento anche l'altro ecco qua easy ok ok sono pro no 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 bella 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 basta cicciole ma basta che mi sta piacendo bro cecchino no mi sa quasi ok ok non mi ha visto in che senso fuck a posto ma mi sa dovevo completare quello con cecchino solo ritardato in prima categoria ma quale cecchino scusa questo dovrebbe contarlo come cecchino ma non penso sull'inferenza come considera uh si è fatto mi sei fatto la due eh no sono pro il building eh no bro no dovevi chiostruirsi non poto eh vabbè bella 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 comazione a quello a quel botte che mi guardava e non mi sparava io ero tipo troppo in ansia va bene dai guarda che ci sono morta così a quello di dilaniato comunque non ce l'ho fatto va bene no sono stato stupido perché ho completato il pompa devo provare a completarlo con l'acog magari eppure sai cosa cosa forse il fucile da quello là da fanteria lo contavano come assalto io dovevo provare il tarlo con perché magari sono tutte e tre bugate magari con la con me la contava vabbè mitraglietta pistole e fucile di precisione ok pure queste qui è easy in realtà io ho fatto c'è un mitraglietta andiamo di nuovo all'anno 3-4 casse ai fatti dai al massimo quella di andare a borga all'anno no ma vedi che non lo so sarebbe da fare tipo in domina che così muori responi che ci vai essere eh sì ma dopo quella di completare le cosine non ce la fai a farla di completare quella delle casse all'anno perché una volta che tipo tutti andranno là e quindi secondo me è meglio così così no indovinavano ma in partire normali è peggio ma ti dico tanto così qua è vicino quindi magari sei dall'altra parte del bus cioè il bus nemica dalla parte opposta male che vada a vecchiare con le alti ma ho capito ma non la comprati lo stesso no no fidati comunque te la senti giocata bene poco fa anche se quei due erano bot comunque allora è importante aspetta ma ok danni con la pistola danni con la pistola ok dai dai 54 54 54 54 54 è fortissima questa cosa che ti guardo all'infuocato no non era posso dire almeno ora me ne vado alla mia casa o dobbiamo fare tipo una cosa tipo io ero del fuoco tu ero del ghiaccio ci mettiamo le schienze a questo giro dobbiamo attarare bene guarda la gente ha tirato un allargato ho visto 23 persone va bene fine a che ora giochi ma penso per un'altra oletta mettiamola così fino alle 6 no non penso visto che le sedite ad andare in piscina comunque va bene allora a quanto cosa nel silos non ci sarà niente sta andando proprio lì io me ne vedo dalla casa se ce la fai venire alla casa io sono alla miniera ok e c'è la casa sicura qua c'è una casa sicura dove sono io ora ok ho trovato il caccia quindi se riesco con il cecchino a fare i danni e me la conta sono a posto è già uno ho trovato anche la pistola luciano questa è la partita ok ma sei sicuro che la pistola la conta come pistola ok ho trovato anche il pompa leggendario luciano questa è la partita della sconfitta della sconfitta dici eh doc perché c'è da attraverso i muri è la cosa nuova no ok easy è il nuovo il nuovo aggiornamento non lo sa guardate dai voglio provare c'è chi la pistola fra oh non c'è una casa fra fra devi venire qui immediatamente tipo no no doc you must parling ok ok ho preso due volte con la pistola ma non basta mi conviene in realtà in realtà oh no tra fra no no stai morando è fra 14 persone no doc la faccio ce la faccio vieni qua sta arrivando sta arrivando fra io ho fatto 100 in bocca fra fra vieni 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 fregatela curami curami sei vero sei vero vai fra palmo fra fra non c'è il titolo no no 25 25 bene 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 per fortuna le vende sono visibili frati può ci sta vieni qua curati vieni qua curati fra 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 mi devi farmi mettere qui però ah ah brother quanto piacere che ci senti ok vieni qua vieni qua vieni qua brother brother ok oh bella 1 1 1 questi tenni di tenni o cilino prendi le bande prima aspetta prima le band infatti a fine che mi fullo io no non ce la faccio perché qui giù non c'è più niente no c'è un medikit invece no perché ti sei tirato ti sei tirato lo slurp ah si si vabbè non fa niente vabbè tanto c'è due medikit quindi vabbè cioè sto qua io spero ti ho fatto 110 ora dovremmo vedere in cilio 7 mila delle casse e non penso in realtà però 150 comunque sono dalle stelle dalle stelle vabbè ok hai capito tu ti sei andato alle miniere quindi no oh cassa 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 bellissimo che poi io vedo che tu sei 5 io a 4 non so perché ok da 50 venite da prendere ok ok ora sono a sé pure io bella quel boschietto potrebbe esserci una cassa però vedo dei materi a 3 quindi hanno farmato e l'anno aperto e dove è lo scudo è nella casetta quella là dove sono andato da tutta lì non so da tutta lì una casetta c'è là vicino alle piante si dietro alle balle ah proprio me le lascio da lì dentro ok non so le portate oh dovrebbe andire in questa miniera no in questa di solito non le sponano qua non le sponano oh ho trovato una trappola ho trovato una trappola bellissima quindi tu già hai completato questa di qui quella no come no non penso con questa è una sola no era in una sola partita ah ok ho vinto per questo è buono domina è chiesto in domina non cade il loot quindi se la trovi bene ho trovato vuoi vedere alla miniera quella là dove si è morti prima la prima partita di tutte se c'è ok la cassa e fra il tipo mi ha portato a un cretore ok ma lì qui lo conta come land non lo so ah in tutto questo dobbiamo andare a borgo si si è per il nostro non per una spazza 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 aspetta ma hai visto se qua c'erano casse e qua c'è uno scudo da 50 tiratolo easy bellissimo così chiamo 100 100 qua pare mettono a terra per andare sul sicuro lo ammazzo con la pistola con un cecchino invece lo atterra normalmente poi lo ammazzo lo so oh bel bel sopra quel fulgo il fulgo il fulgo il fulgo il fulgo dai che sfiga vabbè proviamo lo so ma io non ho parole oh si si vabbè un bomb mi servirebbe una r servirebbe una trappola quanta ne so eh un botto vecchio per cui andare a borgo ora se sto nella trappola boh fammi sapere c'è c'è due accanto all'altro bella no parole due spone dove può sponare non si sa quanta roba sponano le trappole non bene bella non andare a caso cioè nel senso calmo come andare quelle le belle cioè nel senso è la base mincana c'è di roba dove andare in quella casetta però ci ho levato è troppo silenzioso ok vai vai ma ha dato la cosa in land e borgo dai quindi ora ora dovrei risolvare almeno una trappola da piazzare e provare a fare cioè mettere le due stelle e fare la chissà colcettino e con la pistola sarebbe perfetto ma in che senso ma what ma lo scusi mi ha costruito cosa a casa qua nello frattempo sono seguiti ma hanno lasciato una trappolozza no non 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 andare dentro borgo a caso non non ma sto tanto sull'interno c'è che ho tanto sull'interno non mi piace per niente allora io sono un attimo no sono un attimo fatta sotto perchè aveva sempre se vedere uno quindi diciamo beh in tal caso fai un fischio c'è nel senso ecco perfetto c'è uno no no non c'è nessuno ah ok ok si era per provare ok quanto al pensiero eh no voglio vedere se si può fischiare ahahah a me servirei due r oh ho trovato una kblu in completo te ne do uno bianco bello mi serve siccome e c'era anche un'altra cosa che non mi viene il nome che è interessante ma la pistola ok no io lo dico ah ecco quello grazie no ma non funziona ma è fake ecco che tutto con noi che già l'hanno usato ma mi è perplesso allora la c'è una cas oh mi serve quella una trappola quella che io ho detto vabbè non sarà mai una trappola ma dove una trappola ti gioi qua sopra Ma perché qui hanno tolto Qua la pulivia Cioè nel senso Eh perché hanno La ma Mi stanno sparando Oh dove te stai Guarda qua Vieni qua È da borgo Utilizzo il farò Cioè il farò si domani Allora vai vai Ehm ci conviene che C'erano in safe e li aspettiamo lì Ma mi lascia perplesso Oppure ci prendiamo l'altezza Mi stanno busciando Eh no va bene non siamo in safe Aspetta qua c'è una cassa Vecchio no ci dobbiamo muore Stai tranquillo Ci hanno busciato E io ho perso l'altezza Sono da te Ottanta Quaranta Ma dove stanno Viste Ma Ok una terra Lo completo What Ti ho messo con la terra Che io li avevo Strettati Ma in che senso Ma scusa Ma ce ne stavo È morto è morto Ho fatto anche con la pistola Ho fatto anche con la pistola Ho dato con la pistola La deagle non me la considera come pistola Ok Che vuol dire non te la considera come pistola E ho l'ho fatta con la deagle E ho l'ho fatta con la deagle E non me l'ha data Aspettano C'è la seficione E lo so Lo so Ok Manca a me solo La chico Il cecchino E piacere una trappola Possibilmente Ok E' bello quando un gioco ti fa trovare Quello che ti sede Ma ti può darti qualche Fatti i funghietti Fatti i fungo infatti No no Io ho due cida da 50 Sto aspettando Per tirare Non so Con me con la nuova Cioè con l'animazione Mi sembra che perde più tempo Ma in realtà perde lo stesso tempo Ma non prendi Sembra che perde più tempo Perché dice che lo deve aprire Ci sta più tempo no Eh non so Ragazzi io vi ricordo di lasciare I che sempre l'hai fatto E iscrivervi al canale Oh dei inizi qui Nord est nord est No no Spero non dirmela così Non ho ancora la trappa Eh allora non fai Se riesci Fammi a buttare subito Una terra E mi faccio Altri col c Ah aspetta però Io ho fatto anche con la pistola Prenditela Quale pistola Quella normale Non sei sicuro E devo lasciare la deagle Ma vedi che è forte Eh vabbè vedi Vedi che è fortissima La pistola normale Ho capito Ma devo lasciare una deagle Va bene Eh stavano qui a nord est Dipende come usi Vedi ma E poi l'hanno depotenziata Sulle costruzioni Prima almeno Eh lo so E poi le barricatei Lei ignora manco le rompi Quindi Cioè io la dico La utilizzavo Per spaccare E schipare Subito E sparare Ma ormai che l'hanno depotenziata Non spacca manco più Cioè Vabbè La dico E poi c'è solo una cosa Sud est Intanto Eh qua Stanno fightando Ma non so che cosa Hanno il bar C'è solo da prova C'è chienata della vita Sono sotto Ora ci avviciniamo E neppure li vedo Praticamente No no E saliamo sopra Veniamoci quelli d'altezza No no la sfida mi chiama Aspetta Wait Ragazzi ora leggo un secondo i commenti Già no Non leggere i commenti No 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 Vabbè Guarda roba verde No 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 Sei sceso Mentre Mentre arrivava il tizio Ho detto vabbè stanno Ora fightiamo Invece no non c'eri Stanno qui Stanno qui Se mi dici di fightare Fightiamo Cioè nel senso Andiamo Vai Andiamo Lei è dietro di te Sono Non so dove sono loro Stanno giù Ah li vedo Sono qua sotto Ok ok Uno fatto fuori Dov'è Dov'è Aspetta che ho visto uno scato Sta da me uno Ok ok sta da me Fanno da me Qua giù Io li vedo Se mi riescono a pushare è un problema Ma allora non sono insieme Non sono insieme No no sono Dessere E allora vieni Che sono già giù Io Qua ci sono scarre trappole Non so Vai ora posso Zitto zitto Ma what C'è un'altra Fammi da piazzare Ok Non me l'ha contata Perché è una macchina Come? Volevi eh Vai No 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 Andiamo Andiamo C'è un punto Che mi devo dire Il medikit Ti entro Do pure a te Tu le hai Perché non mi ha contato La trappola che ho piazzato Vabbè che ne ho sette ore C'è lì Ah no mi sa che sono trappole diverse Da usare No tu hai usato la stessa Vieni vieni qua Vieni qua vieni qua Destra 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 Veloce Veloce che mi devo dare il medikit Vabbè pure io L'hai Grazie Ho la colti? No Come no? Non so perché non me la conta Ma forse già l'hai presa No Da slot trappola in diverse Ma siamo contro un team contro uno Diversi oggetti da slot trappola Quindi andavo saranata Quindi allora La giampa andrebbe bene Esatto Ma l'ha contata Ma tu che trappola hai trovato Che ti ha dato entrambe Tu sei due trappole Cioè nel senso Ah no ma non l'ho presa Eh appunto vieni qua Vieni qua ti troppo Non dico una jump Perché è sprecata Una torretta Veloce Veloce che c'è la safe Vieni qua vieni qua Ah ma la jump Dai vieni qua Vai 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 Piazza la piazza Dai Vieni la brother Ok ok E siamo Vieni all'accampamento dei pirati Eh non ci arrivo Non c'è nel senso Ah no mi mi piace Vabbè vieni vieni Sotto di noi Sotto di noi uno Sotto di noi? Where? Oh L'ha lisciato Ok del danno psicofisico Oh Fra 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 Fatti l'altro Te lo sei fatto No non morire Non morire Non morire Fra Pochissima vita No Vabbè c'è l'altro team C'è l'altro team Guardo la Solo fa No Peccato Terzi Io ho fatto le trappole Le kill Sì Io ho ammazzato L'alletto con il cecchino Mi mancano 30 di danno in testa Una cassa all'ande Ah peccato vecchio Era bellissima Se riuscivamo a vincere Lei era fantastico Vabbè Ho strettato Vabbè Mi ammazzato sempre Su 100 di vita Aveva 39 di vita Aveva Vabbè 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 Ragazzi mi raccomando Lascio da like Se ancora l'hai fatto Mi raccomando L'importante E' l'iscrizione Tattica Ehm Non è l'ora Ragazzi Ok vai Qua va tutto Io sono stato un po' egoista Perché ho detto Ah me la prendo ora Che il colcettino Non la faccio più Perciò ho preferito Prendere Il colcettino Ho sbloccato questo blu Il librido E quindi lo metto ora Vai Sono arrivato a livello 34 Ho sbloccato Il librido blu Anche io Ok Andiamo La famiglia Dico io Cioè sfide Le ho fatto Cioè non dico E l'ho finita Ma quasi Vediamo Allora Anche se sono a fase Montagnone Maledette Pinnapoli Questa è un pochettino Più complessa Sarebbe Fare tipo Ti ho detto Rissa Cioè Rissa Domina Allora Dobbiamo cercare Le lenti ingrandimento Cerco io Ti per cuore Vediamo Vabbè Quella lasciamo Per ultimo Eh no Lo voglio fare Tre ore In tal caso Mandami la richiesta Verano Non sono scordato Ah Giungi amici Aspettare un partire Non partire Mettino Non mettere pronto Tra l'altra Tra l'altra Allora Vedi che è parto Ah si Infatti Allora Sfida E che se sono Ancora Ho avuto Perciato Allora E io devo fare Ancora una cassa Allande Tu pure Sì sì È il gruppo Condiviso Ok Dovrebbe Allora Allora Sto punti di dire Di scendere Allande Fare la cassa Poi devo fare Io solamente Trenta danni In testa L'ho fatta E poi Pinnapoli Montagnone E poi Stato Ok Ottimo Sì E poi Pronto Io ti direi Di Eh Dock Metti Pronto Allora Eh Noi ci facciamo Quest'ultimo Allande Allande Sì E poi A fare I danni E poi In caso Ci spostiamo Verso Il biomanever Io dovrei fare Questa Dovrei Vedere Questa Lente Di Ingrandimento Eh Prova A vederla E se Tipo Nella Zona Irland La Faccio E infatti Per questo Ingrand Ah Possiamo partire No Sta caricando Ok E di Bella Per lui Bella Per lui Allora Bella Per ciccio Yemero Tenta Fame Non era C'era Nel senso Va bene Allora Vediamo Ok Va bene Luciano È sotto Picco Volare Non era Così Comunque C'è Almeno Avrei Una Pazzola Fade Tra I numeri Gli Africani Però La Terra No No Grazie Sera È Sotto Pinna È Sotto Piccolo Praticamente Questi Qua Qua Va bene Quando Andiamo A fare Le Scatole Nel Piomane Anche La Lente Ma Resta Secondo me Ci conviene Tipo Andare Ora Tipo Qua No Vabbè Per una Cassa Ormai Facciamo Alla Alla Sì Andiamo Alla Cosa I pirati Oppure Prendiamo Un drift Andiamo Alla Nel Dici Prima Land E poi Ci Spostiamo Di Borg Allegri Perché Mi Da fastidio Ce ne Manca Solo Una Oppure Potremmo Fare Che Uno Dei Due Andava Land E L'altro Andava Assistito Allora Allora Al massimo Sai che Facciamo Dopo Io Metto Gruppo Condiviso Anzi Tu Metti Gruppo Condiviso Quello Della Lente E Io Metto No Non Ci Può Fare Penso No Ascolta Tu Metti Gruppo Condiviso Le Scatole E Io Metto Invece Il Gruppo Condiviso Quella Della Lente Così Tu Fai Che C' C' La Che c'è la cassa Allì Grazie Fatta 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 Ok Che Nella prossima Partita Io Vado A Prendere Le Scatole Allora Questa Me la Gioco Aggressive Io Do Fare I Tanni Test Ma Ma What Ah Ti Oh Ma Hanno Modificato Qui Una Cosa C'è Doc Praticamente La Come si Machinetta Quella Dove Prendere Le Cosa C'è Non Dimmi Che Non Lo Sapevi Per favore Altri Mi Rovini Tutti I piani E La Macchina Diciamo Un Problema Mi Sono Accorto Era Della Santissima Ida Proprio Arrivo Arrivo Ma In Quasi Sono Il Due Sì Doc O Le Banno Ho Fatto Messo Doc Fra No Ma In Che Senso C'è C'è Mi Va Bene Ok Perfetto Ok Vabbè Abbiamo Completato La Allora Bello Mi Piace Così Ci Siamo Completate Le Sfile Allora Devi fare Quello Che Ti Dico Io Perché Così Facciamo Allora Quello Che Mi Dici Che Io Non Lo Faccio Faccio Quello Che Voglio Io In Tal Caso Mi La Cosa Della No Io Faccio Gruppo Assistito Nella Lente Che La Vai A Fare Tu E Quindi Mi Dà La Sfida A Me E La Fai Tu Ok Invece Metti Gruppo Assistito Su Quello Delle Scatole Di Munizioni Che Le Vado A Fare Va Bene Così Tutti Fai Munizioni Mi Sono Rimessi Ancora A me 30 Danni Da Fare In Testa Quanto Storo Figando Non Sono Riuscito A Ma Chi No Invece Ma Quanto Manca Ma Chi Stai Parlando In Che Senso Degna La Testa Dove Infliggi Danne Alla Testa Ma Quale Ah Ok Perfetto Ma Ancora Mai Ne Mancano 400 Io Non Fatti 470 Perché Ho 72 72 72 72 72 No Non Penso C'è La Poi Pistolina Mi Raccomando Iscrivetevi Se Ancora L'ate Fatto Poi Lo Sai Mi Sa Perché Sono Già 470 Perché Quando Ho Completato Quando Siamo Arrivati I Terzi Quando Ho Completato A Quello L Poi Siamo Morti Mi Sa Che Spando I Con C'è Chino Mi Gli Ho Fatto Leggo Tipo Sipo Capito Sto laggando Come un animale Del buddha Maya Non era così Per rispetto Allora Andiamo a rampe Perché Rampe Rampe Non vuoi fare E non era Nel C'è Nel No aspetta Tu devi andare Alla Lente Io devo scegliere Una city Nel bioma Neve Comunque Ti sei iscritto Six Devast 77 No Mi risponde Ciao Bella Allora Ascolta Siccome Sono una persona Onesta Ma nella regione Vado vicino Pinnacoli Eh infatti Vado vicino Pinnacoli Così Vediamo se Invitare La cosa No Non me la devo Atterrare E non era Così Cioè nel senso Ma io ho tolto il punto Ho trovato Un pino Vanda Ma io ancora Devo Ok Io sono Atterrato Alla cosa Di Pinnacoli Che ne vada Condotti Che ci va Poca gente E ci sono Tante casse Ma sicuro Ma Ma No No Guarda che non ci arrivo Guarda vedi che c'è mezza lobby Condotti E mezza Land Ah io Aspetta Io posso Combedare Aspetta No Mannaggia Perché non abbiamo fatto Gruppo condiviso No no Sì che l'abbiamo fatto Tu l'hai fatto Con le casse Io Lo so Lo so Però io Ho preso Ora ora La casa Solo che a terra Non te la dà Ovviamente Ah Di posizioni Ma Ma C'è tipo di tutto lì Dove è la lente Scusa A me Non ando ancora La sfida E no Non aspetta Perché ci sono Tantissime persone Nel senso Non lo so dove Ho visto Più Ma che è qua Ma che è perfetto Eccolo qua Presa Ok Ok me la data Perfetto Io ancora Ho trovato Una cassa di munizioni Ottimo Una cosa dovevo fare Non riesco Manca a farlo Allora Facile Spano di solito Una Ok Vai Una Tu dovresti gestire A due Sì sì Allora Vado da qua Magari c'è È là per lui Altra scatola Signori Fondamentale Un botto vecchio Mi sento scarso Guarda Allora Scendiamo Pistola Easy Poi se da l'altra parte Tutella nera In tutto questo È giusto Per Ma ovviamente Cioè Nel senso Mi devo andare Pure in sei Bella Ma le cari Io le munizioni Non ti preoccupare Bella Quanto sei A5 Praticamente Io a 4 e 3 a 5 Qua ce dovrebbe essere un'altra Boom E non è sponata Grandissimo Vecchio Ma stavo sentendo Una gesto Prima Ma non c'è Bella Allora Dove Mi sa che già l'ho presa Sì Bella Allora Io me ne vado Me ne vado in safe Ma che hai visto Ma tutta sta libertà Che ti stai prendendo Ma in che senso Ma comunque il rampino Non si attacca Oh ma non ce n'è più Non ce n'è più Ma il rampino di cosa Del Forse sei un po' lontana Sei con la girosfera Ho saputo Ma Ma non Ma non te lo dice Cioè che non puoi Io posso Ma non posso No si ho ragione Lunghissimo Ho ragione Lunghissimo Quindi può essere vero Che non si può attaccare Ma non si attacca In quella dei vichini Cioè In quella dei vichini Nel villaggio dei vichini Non si attacca Vabbè Così Sì Ma nel piaccio Si ghiaccia No Non si ghiaccia Easy Non ho capito La bolla Non si ghiaccia Non è Ah vero Qua ci sono le case Vero Vero La mezza Sarà completa Ok L'ultima Mi animale Ah na 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 A me è l'utilizzo Allora Eh si No a me se ne mancava A me ne ho trovato pure un altro Vero No no ci sono dei vizi Vabbè vorrei morire Se ne faccio Non ti preoccuparti Ma Ma wait Soldato Non voglio morire Non voglio morire Non voglio morire per un Ok Eh si però Vuoi ucciderla a questo Ma Ma puoi venire tipo qua Che c'è un tizio che mi sta sparando con la palla Non ci siamo capiti Guarda qua Guarda qua Guarda qua Come viene Ah volevi Sta sparando con la palla Sopra Magnissimo Tra Ah ma sei pure vicino Tra Ok non sei vicino Ma non sono vicino per niente Bella Che hanno completato Non ce l'avrei fatta comunque No no vabbè Cosa fa l'esultanza Ecco aspetta Allora Segnala Allora Ok Scusa che ci sei mandagli la richiesta a quel ragazzo No 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 Già mandata A quello Sopra fa Vabbè stavo stessi No non voglio capire C'è un ragazzo In live Che sta tipo Spammando con me Anche uno dopo l'altro guarda Guarda Appena ti blocco Un secondo Diciamo che non posso Hai libertà Ti faccio vedere Guarda sta cosa Va bene Dico ci sta Va bene Scusa Eppure non ti sei scrivendo Cioè nel senso Infatti è la prossima Stava bella Ok Ora possiamo chitare Eh le compotevate Allora Allora Mi lascia Mi lascia Eh lo so Mi ha ucciso così a me Mi fa danno Poi esce Sì che fa danno Un botto di danno Aggiungerei Poi esce Se mi ha dilaniato E' scarso Come la fama Purtroppo abbonda Dai devo fare un colpa Ma Mi lascia perplesso Mi sa che sono nemici C'ho stia sensazione Mi sa proprio Però me Eh forse Ti sto so Non so Dici che è un bug del gioco Che ci senta Lavorata Bello Sto Ma Mi lascia perplesso Oh ma stico Adesso Santo Dio Sto qua col cecchino Cos'ho Ha cacciato Tua madre Non era C'ho almeno Va bene Va bene Va bene Ci sta Mi lascia perplesso Questo ragazzo Ok Vai a vedere La mia live I commenti Vai a vedere Per favore Guarda 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 Mi lascia perplesso Ma secondo me Mi spondi I miei I miei Cane Te l'ho detto Mi molto perplesso Secondo me Mi sta spavando Un pochino Ma forse Allora Quindi sfida Mancano Di fare 30 danni in testa Gimbo Cioè Veramente Ancora A me Rimano 400 Montagnale Pinacoli Montagnale Pinacoli Cerca forzerina E la giungla Vabbè la giungla E tutta la zona nuova Che hanno aggiunto Perciò io metterei Di fare Cerca forzerina E la giungla Vai fai il gruppo assistito In quella Poi al massimo Proviamo ad andare A fare Vabbè i danni in testa E poi quella Di andare Nelle zone Ci andiamo Di proposito Secondo Perché devo Cerca forzerina E la giungla Questi qui Esissimo Facciamo Ma in realtà Uno dei due Può fare Tipo gruppo assistito Nel Ho capito Però Magari Metti che sono Trovi Trend No Quello P Maledette Maledette Montagnone Maledette Pignacoli E ho capito Allora Uno solo Deve andare La perciò Tipo io faccio Io faccio Gruppo assistito Ad esempio Nei forzieri Tu vieni Forzieri Gruppo assistito Sul montagnone Va bene Quindi vai tu A montagnone Pignacoli Io vado a montagnone A Pignacoli Faccio gruppo assistito Su Giungla Io ho fatto Gruppo assistito E tu fai Io che Paralli hai fatto Di Tu vedi Giungla Io vado Vai Montagnone Vai Pronto Poi andiamo Ti puoi Stare L'unica Cosa buona Che hanno fatto In due anni Di gioco Ovvero Mettere Il gruppo Assistito Ma Io devo Completare Ancora Quella Con il Cerchino Distinga La epic Allora In Stapartina Dobbiamo Completare Tanto Sono Cinque Cosini Ce la Fai Vattene Un Qua Sappiate Che Vattene Un Posto Easy Non Non Nare Il Bar C'è Vado Negli Alberi Allora Scalini Non ci possa andare Agli scalini Non ci possa andare Perché c'è la sfida E ci fanno un casino Di persone Ok Giusto Ah bello Montagnolo E' la seconda City In che senso Montagnolo E' la seconda City Che ti dici Con questo Perché Non Entrano Look De Mappa Aspetta Ah Bene Ti devi Dovresti Aspettare Che finisce Il time Che si era Abbagliato Il mouse Allora Allora Dove Sessere che Sceglierà Mezza Lobby No Stai andando a Crucevia Comunque Lo so Lo so Mi sto Scendo Uno skate Eccolo qua Uno skate Da mai Così Volevo Compluto Con più Velocità Con più Volevo Ti cecchino No Mentre sei Arrivato A metà Tra Pinnacoli E parco Ti immagini Stai urlato Mandarino Come ti immagini A me Poco Ma è successo Allora Vai Così Per Qua Qua dovrebbe Sare Giù Ma se Vole giù Un Asclero Come Un Su 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 Montagnola Me lo dai Grazie Grazie per la sfida Brother Eccolo Eccolo Pinnacoli Bra ma le sfide Oh calma Non me l'hai contata Perché Perché forse Non sei nella giungla Ah ma no C'è Come questa non è giungla Infatti Non lo so Boh Per non andare più Verso la laguna Magari Questo divisa Quindi Non lo Conta La giungla Eh la giungla Dovrei stare Una scembia Non era così C'è almeno Come no Non quella del film Comunque l'ho mutato A quel ragazzo Ai poverino Eh Scusami Ma Ok 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 Arrivano Arrivano Sta arrivando Sto di streak Sta arrivando Anche l'altra Quando troppi I scildini Eccolo qui Ok Ok Io finisco Di farei le casse E a stupito Eh doc Ci vediamo qua Niente Sei simpatico Che cosa Ti vengono a dare Una mano Ti vengono a dare una mano Ti vengono a dare una mano Ma tanto faccio il gruppo assistito Mi nevica a sé Basta Eh no infatti Vero Vero Non ci ho pensato C'è un C'è un Un petto Nel tuo vicino Quanto te ne vengono a dare una mano Sono due Cioè io non ho armi Non ho niente Però Dirti che ho bisogno Di una mano È un po' Diciamo Ridicolo Perché sei dall'altra partella No fra Fra No Ammonte tutto Fra Forse non hai capito Why Eh why Perché No aia Ma ti ha fatto il danno Fra siamo nei guai Come siamo nei guai Siamo tutti morti Fra Perché Fra Fra mi hanno scopato Come Sta sto strisciando No Eh ma Poco puoi strisciare No fra mi ha visto Ah Oh mi ha lisciato sto bot No fra Non guarda è sotto l'acqua Sei un po' un cane se lo fai No Sto guardando sotto l'acqua Non mi trovo Aiuto Luciala vieni Come facciamo i li Luciala no Aia 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 No Stavo arrivando Con il cannone Ma Capisci bene Beh non abbiamo fatto Con le casse Vabbè abbiamo completato L'altra sfida Ma Ma Bella sono senza un pompa Tanta voglio divinigere Cioè quindi dopo Io vado a finire le casse Tu vuoi fare le altre due città No no Dopo poi c'è finita E poi ogni cosa si fa i danni Per i fatti su No 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 ti giuro Sono tre fasi No no Dopo poi c'è finita la live Vecchio Dopo in tal caso No no Dopo in tal caso giochiamo le due Però la live dove devo staccare Perché Ma che ti cambia se la live la continui un quarto d'ora in più Perché lo so io il perché Perché se sto così Non la completiamo più Io già mi conosco Tipo non chiudo la live fino a quando non finisco Eh lo so 12 ore di live E infatti Così va a finire Perché ogni volta quando Quando devo completare le ultime Non ci arrivo mai Perché Ma scusa Fa una cosa Suicidati e fai prima Mi suicido e faccio prima Dici Eh Facciamo No però non voglio fare Sì però non voglio farvi Prendere questo loot Che faccio Eh lo suicidati con le granate Dentro lo stanzino Ma Eh E neppure questo Io vi farò per andare Sì Ma perché altro Sei bevuto prima Scusa Non l'avevo visto Allora Allora perché dovrebbero vederlo loro Eh 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 Aspetta Ma se la lancia in aria Si nascondi Ma se la lancia in aria Cioè Cosa succede Della serie Allora Torna giù Penso Ho capito Ma non penso che torni giù Comunque Vai 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 Stala No vabbè pure qua Siamo piramide Piramide Vabbè che tanto a partire Le granate si spacca tutto È giusto per Eh lo so ma 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 Vai 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 Nasconditi sotto e tirare Nasconditi sotto Vediamo Ma non possiamo ancora vedere Quanto Ah ok no Non si è spaccato Però è arrivato Assoluto aperto No Ma ok Ma esciamo Ah bene Spinaci Ora vengo pure io con Telli Tanto è easy No 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 Cosa vuol dire? No 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 Scusa Voi a fare le città tu A fare le città? Beh ci sarà la terza fase No Così quella era la terza Fammi vedere No non era la No vedi Vedi Piste polari e sponde Piste polari Sai che se Cosa Eh fai Rampi ghiacciate Rampi ghiacciate Sì sì Rampi sponde Rampi sponde Ma Mi riesce perplesso Ok Tu Sasti dannio Dopo E ti amotico Gruppo assistito Pure per i danni Alla testa Dopo sta partita Che facciamo Quanto le sfide E io devo Ancora Completare Quello di Fugere di precisione Cioè Ah la kill Vabbè devi mettere Una serie Però Completi col cecchino Ah infatti Sì A trovarle Isissimo In tutto questo C'è pure La stellina Da prendere Ah vero Vabbè Dopo la Facciamo Dopo le live Dopo la live Tutte queste cose Quelli Si chiamano 10 stelline No 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 Ora Ora ti dico Il motivo Ora appena Rientriamo Altrimenti Interrompere il discorso Non mi piace Comunque ragazzi Puoi lasciate like Se ancora l'ave fatto Mi raccomando E iscrivetevi Comunque Ti stavo dicendo Lo sai perché ho paura Perché nell'ultima live Che è durata tipo Due ore Come questa D'altronde Quasi Questa qua è durata Un'ora e mezza Un'ora e mezza Se noi continuiamo Dura due ore Te l'assicuro E l'ultima live Che ho fatto di due ore Si è staccato Te lo ricordi E quindi ho paura Io scendo subito qua Quindi devo scendere Tu vuoi fare le altre robe E tu vuoi la città Io ho le casse E poi Mi conviene Scendere anche ora Ma la frate Si è bugato Ah per fare spawn Per fare spawn Ah spawn è qua Ci sono 35 Si si lo so E per questo Spawn Perché dopo Io scendo qua Che è dove ci sono più Cassi Assoluto E poi c'è sta cassa Tipo dove posso Trovare No non c'è gente Però non morire Mi raccomando Minna Già è morto Bella Ma vai Io mi sono sposato Il che letto Ora Se questo qua Si prende la cassa Ma si è finito No tocca No tocca No 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 Forse mi fa Forse mi fa Se mi fa che urlo No fra No no Non lo ti fa C'è doveva stare No fra Però Però Vado a completare La rampa Dov'è Cioè Che sfide Vado a completare La rampa E poi Gli pucci Direttamente Ma Cioè Ho una sfortuna Eccezionale Cioè Ma ti sto carriando Un botto Vecchio Mi potevo scappare Delle casse E' uscesa Mezza lobby A laguna Vabbè Hai inizio Stavo spostando Per trovare una cassa Ma quant'è cosa Ok ora Qui Nel posto Delle montagne Ok Ok Che posso Perché ti devi suicidare Nel mare Sali sulla torretta E ti butti giù Susciti con la girosfera Con la girosfera Oppure ti butti E ti appendi E tipo Rimani appeso Con la girosfera Ricordati Devi tenere premuto Sì sì Gireti Lasciati chiedere E ti appendi Fino a quanto No No Riveli attaccato Tipo Jack Ma Jack Ma Mi lascia Perfless No Bella Ora metto pure io Gruppo assisti Nelle Nelle geste Visto che non ce la fai A farle da solo Ok 200 Splendidi Bucks Easy Ancora A che level Sai scusa Io sono a 36 Pure Ho sbloccato Links Bella Dopo Due season Dopo Una season La cosa Ma Sblocchi Vivera Come prima Skin Come No Niente Fai Così Lì Sembritissimo Guarda Quanto Fio Sì Però Mi sembra Sprecato Gruppo assisti Vabbè che io devo fare i danni e cerca foffi ma tanto ma tanto perché cosa dobbiamo fare Allora fare due forzieri e 30 di danno alla testa e poi ho finito No 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 Metti anche gruppo assistito qua cioè io l'ho messo noi ho messo posso metterlo su di una sfida e l'ho messa ancora dei forzi e infatti il lato di Guarda look look spara scruppa Tattata Che boss No Cosa ne pensi del collegio Bello Bello Ci hai fatto il talk about eh 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 Quanto adesso Ma tra l'altro quando Quando finisce il Collegio E' finito E' finito Martedì sera è stata l'ultima puntata io me lo seguo Ma come te lo segui? Ma dai Mi sembro triste Dentro Io sto crepando alla paname C'è nel senso Ma che sto mangiando? E' pensare che io sono a dieta Ma Voi si fa quello a mettere sale a quello adesso lo fa sbattere sul gomito Cosa? Non ho capito Allora Quello che fa sbattere il sale sul gomito Cosa è lì quello che fa sbattere il sale sul gomito? Non ho capito mi lasci perplesso vecchio Allora Come si chiama il cuoco Quando mentre si mette la mandotta storta Si fa scivolare il sale lungo il braccio Non lo so Cioè Ah ho capito quello di là La meme Il meme Mi lasci perplesso Mi dai colpio da testa? Il piano da testa è 140 in testa Ma la piccola Ma perché non la fanno anche che in testa tipo vale do? Cioè vale di più Sì è più caratteristico Cioè alla testa vale 20 invece nel corpo 10 Andiamo a buccano Ma Non so Allora dobbiamo compilare due chest Dobbiamo trovare Oppure andiamo a tempio che non gli interessa niente a nessuno Perché è tristissimo Vabbè non andiamo a te Alla fine era fake la sfida quella delle funi via Non c'è stata Mi sono ripeto un po' male Ancora mai Le aveva portate GKR Martex Andatevi a disiscrivere Non penso sia una buona idea Non penso che qualcuno ascolti Beh è l'amico di noi super da 100 iscritti Andare a disiscriversi in un canale da quanti iscritti ha Ma per me Martex un giorno non farà il milione Ma mi scrivo Ma non per lui perché Cioè capito Adesso ti esisterà Mi lasci Doc ma ce n'è una qua C'è gente eh io spero Il cane di Buddha C'era un nemico E da ma Dov'è? Dov'è cancer? Come? Aspetta aspetta Non ci riesco Ok Oh c'è la trappa C'è un cichino Ma 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 Mi lascia perplesso Doc non morire Doc please Don't morting Io per prenderlo in headshot No Mi fa Asconditi Mi fa mi fa Anonimo Anonimo Mi fa Aspetta 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 devo prendere un po' Sì c'è un po' Non te l'aspettavo Perché non muori Da bestia Puoi morire Cosa sta facendo Vabbè Fa 190 Ti ha ancora una cassa L'impressione mia Sì Tu invece la compratavano Sì sì Guardate io devo fare una E una vuole tu Giusto Ok Quindi non faremo la cassa Perché morirò In qualche strana maniera Tranquillo Non ti preoccupare Ci sono io Avevo visto una cassa Qua scendere Eccola E infatti gli sparerò Col baret Baret Al 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 baret Ah bella Non posso neanche ubriacarmi Oh ho fatto anche i danni a testa Mi sento realizzato Cominci a vedere un video su dove la stella segreta Ma no Se mi suicido Ma è prova Cioè prova Fallo Non scopriremo mai cosa c'è in questa cassa Perché la romperò No Aspettate vediamo No Fai schifo Fai schifo Non c'era niente Lo sapete Ci dovevo buttare Era perché poi avevo I sensi colpa Magari c'era uno scarleggio In baria Con quello Dicevi la partita Ma Mi lasci perplesso Doc Sto molto su Doc Doc Ma non servia a fare una cosa del genere Cioè Manco i materiali li possono prendere Distruggi Le cose con il barret Ma Ehi 360 360 Pum No lo volevo prendere Lo volevo prendere il volo No non ci sei riuscita Quanto meno Non fa niente Bella E anche oggi Si fa vittoria in reale domani Eh infatti Siamo anche i terzi Cioè è bella estate Parapapapapa Parapapapa Parapapapa Vabbè dai Ce l'ha a dire Che noi non vinciamo Perché stiamo giocando Per le sfide Certo Non perché Non ci riusciamo Perché Se solo volessimo E vi sto usando Anche il congiuntivo Cioè Ascoltate qua Ma Allora è il sito che tre in italia io due rispetto tra l'altro queste due sono le 10 stelle easy quindi possiamo dire che le persone ci credono ma dove sei arrivato però portare master lo voglio vedere perché tipo si aprono le ceste si apre pure lui è tipo una cosa quando esce una cosa ma cosa allora portare master c'è il dorso niente più casa per più si apre decorativo aspetta e sta scalini scatenati perché vedo ma tu ce le completate le sfide sì sì comunque chiudono live sta scalini scatenati e sono sicuro ecco e dovrebbe stare tipo al tempio principale da qualche parte ma non siete nella fonte comunque ragazzi direi che per questo appuntamento è tutto vi ringrazio tantissime visioni vi ricordi c'è un bellissimo like se vi piaciuto questa live commentare iscrivetevi al canale se ancora l'hai fatto ringrazio dario per aver partecipato a questa live ci si becca alla prossima commentiamo tattico se lo volete anche all'interno delle prossime live qui il vostro zeus e dai è tutto bella raga alla prossima ciao 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 ciao